Con un aumento di 25 casi su 823 tamponi analizzati, 3% di positivi sul totale, l'Abruzzo raggiunge quota 2.899 pazienti affetti da Covid-19. Questo è il risponso odierno dei test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zoprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 15 su un totale di 647 tamponi, 2,3%. 318 pazienti, meno 16 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 21, meno 2 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 1.657, meno 23 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Sale di parecchio il numero delle vittime, che raggiunge quota 310, più 11 rispetto a ieri. 599 invece sono i guariti, più 54 rispetto a ieri, di cui 207, che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 392 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 35.356 test, di cui 30.497 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 244 si riferiscono alla ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 751 alla ASL Lanciano-Vastochieti, 1270 alla ASL di Pescara e 634 alla ASL di Teramo. I casi di oggi sono così ripartiti, 22 nella ASL Lanciano-Vastochieti, 3 nella ASL di Pescara, mentre le ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila e Teramo non registrano nuove positività.